Ciao, sono Matteo Seinaghi e questo è GDMI. 30 giorni di allenamento, il podcast che ti guida verso un benessere rivoluzionario. In un mese scoprirai il potere dello sport e come può trasformare la tua vita. Sei pronto? Qual è il miglior tipo di allenamento? Bellissima domanda. Credo vivamente che non c'è un allenamento migliore di un altro. Ognuno ha le sue attitudini, ha le sue caratteristiche. Diciamo che il corpo umano di per sé io predidigo e consiglio soprattutto alle persone che iniziano da zero di basarsi sul corpo libero. Questo perché è naturale. Noi abbiamo delle strutture muscolari che sono insieme alle capsule articolari. Le capsule articolari, parliamo in italiano perché non vuole entrare nel tenico, caviglia, ginocchio, anche tutta la colonna vertebrale, quindi tutte le giunzioni praticamente delle vertebre, le spalle, il gomito, il polso e via dicendo, sono tutte capsule articolari. Per cui tengono la struttura muscolare diversificando tra un'articolazione e l'altra. Il problema è che noi essendo degli animali bipedi e non siamo degli animali da soma, all'inizio soprattutto le persone che cominciano ad iniziare l'allenamento o da neofiti, di non caricare a livello muscolare con dei pesi. Questo perché? Perché se non si ha una biomeccanica precisa, non si ha una biomeccanica esatta, il peso se non viene caricato sulla struttura muscoloscheletrica, per cui sulle capsule articolari che veicolano la forza e caricano la forza, si rischiano degli infortuni non indifferenti. Per cui, ripeto, non c'è un allenamento migliore di un altro. L'importante è muoversi e fare comunque attività sportiva e soprattutto divertirsi mentre si fa attività sportiva. Però di avere un occhio di riguardo, soprattutto all'inizio, per evitare comunque di avere degli infortuni. Perché un infortunio, cosa succede? La persona si ferma, si demotiva e rischia praticamente di non entrare più in un ambiente sportivo o comunque di prendersi cura di se stesso perché ha avuto un trauma dovuto a, magari, non so, un'infiammazione di un ginocchio, dovuto a un peso troppo elevato o a una distorsione dovuto a un contatto giocando a calcetto magari che era fermo da mesi e quindi aveva la caviglia non con la propria escezione esatta. Quindi per cui crearsi un allenamento ad hoc in base anche alle proprie caratteristiche fisiche. Quindi di per sé non c'è nessun tipo di allenamento migliore degli altri. Diciamo che negli ultimi anni si è un po' più specializzato anche il settore medico. Perché ricordo negli anni, io sono figlio degli anni settanta, negli anni settanta e ottanta andava per la maggiore, vi dico un allenamento che ormai tutti sanno l'arte natatoria, quindi il nuoto. Quando uno aveva problemi di muscolatura il medico diceva vai in piscina e nuota. Sì, è un bellissimo allenamento in essenza di gravità e aiuta le persone, viene utilizzato molto la piscina anche nell'ambiente riabilitativo. Però c'è un piccolo problema, noi siamo bipedi, il muscolo più grosso che abbiamo è il gluteo, quindi per cui è quello che stabilizza il bacino dalla parte superiore agli altri inferiori e dalla propulsione, quindi dalla gamba per camminare. L'arte natatoria è di per sé un sistema di allenamento in cui si lavora molto col dorso, con le braccia, con il quadricipio femorale, gli schioclurali che sono il semimembranoso, il semitendinoso, ma non voglio essere troppo tecnico. Comunque se voi vedete chi fa nuoto ha praticamente i glutei che non esistono. Questo perché? Perché praticamente nell'arte natatoria non viene messo in essere il gluteo. Quindi cosa significa? Che si pensava che il nuoto era uno dei migliori modi di allenarsi quando in realtà deficitario sul muscolo principale della dinamica del movimento dell'essere umano va bene perché non ha nessuna contraddicazione, però a livello biomeccanico è un'attività fisica che non è così specifica per iniziare come allenamento, anche se ripeto che va benissimo comunque anche fare arte natatoria, quindi nuotare. Quindi di per sé io consiglio alle persone di trovare uno sport in cui innanzitutto ci si diverta e si possa trovare comunque aggregazione e diciamo un settore di pace con se stesse e di non andare in conflittualità, per cui lui è più forte, devo entrare anch'io a essere forte come lui perché divento geloso, nervoso via dicendo, di avere praticamente un settore in cui ci si trovi tranquillamente, quindi un settore sportivo che potrebbe essere un gioco di squadra, anche individuale se una persona praticamente gli piace stare da solo e via dicendo, e trovare perché tutte le persone sanno cosa gli piace fare, quindi uscire in bicicletta, andare a correre, giocare a paddle, essere in compagnia, quindi per cui non so, farsi una partita a pallavolo e crearsi una squadra di pallavolo e seguire quel percorso, quindi non c'è uno sport migliore degli altri. Io prediligo comunque iniziare dicendo alle persone di fare un'attività che abitui allo sforzo fisico, quindi per cui sul corpo libero, dopo dichiarandosi poi a specializzare nelle proprie specialistiche, pallavolo, nuoto, calcetto, tutto quello che gli va dietro. Un passo verso il tuo obiettivo è stato fatto e sarà così anche domani. Continua a muoverti, spingerti oltre, credi in te stesso. Grazie a tutti.